Parliamo di un ponte dell'Arzilla che in questo momento non c'è perché è stato demolito dalla regione per realizzarne uno nuovo. Poiché viene meno un passaggio in questo periodo si è creato un guado e non un ponte, un guado di sabbia per consentire il passaggio in un momento di normalità. Il guado quale funzione ha? Ha quella di consentire il passaggio come dicevo ma nello stesso tempo quando ci sono emergenze c'è maltempo e arrivano le onde forti o dal mare o dal fiume si sgretola per consentire il passaggio dell'acqua ed evitare di formare una diga e creare danni di diverso tipo. Se avessimo fatto una cosa del genere oggi avremmo ben altre polemiche, le stesse persone che oggi dicono una cosa avrebbero detto l'esatto contrario ma questo metodo non mi appartiene. Prima di tutto viene la sicurezza specialmente quando parliamo dei nostri figli, io su questo non ho mai scherzato. Devo anche riconoscere perché non ci si deve nascondere dietro un dito che effettivamente un deficit c'era cioè quello di aver messo dei tubi troppo piccoli per far passare le acque. Abbiamo chiesto alla regione di intervenire nuovamente mettendo dei tubi più grandi di due metri e questo renderà un fluido del corso d'acqua più facile diciamo. Detto questo quando c'è mal tempo purtroppo abbiamo un maggio che non si registrava da tantissimi anni e col tempo non si governa, ci si confronta e si cerca di prevenire. Come abbiamo sempre fatto in tutte le emergenze abbiamo sempre dimostrato di essere attenti e di adottare tutte le misure di sicurezza e lo faremo anche in queste circostanze. Sappiamo che anche in questo fine settimana ci saranno delle allerte e noi saremo lì e faremo dei monitoraggi costanti e il sindaco se c'è bisogno interverrà anche con dei provvedimenti netti. In ogni caso nel momento in cui c'è una pericolosità il guado non verrà chiuso e non si consentirà il passaggio. Poi per il resto attendiamo i tempi che sono quelli di 20-25 giorni della posa del nuovo ponte e poi torniamo alla normalità. però mi piace sottolineare due aspetti. Uno, che stiamo realizzando un nuovo ponte più grande ciclabile pedonale che è in sicurezza e questo risolverà un problema. Al di là delle chiacchiere che tanti hanno fatto noi ci siamo adoperati con la regione sin dall'estate scorsa per farlo realizzare e questo sta avvenendo. Nello stesso tempo garantendo la fruibilità con tutte le precauzioni e ripeto non parliamo di un ponte provvisorio ma di un guado. Opzione ponte Baili, praticabile, difficoltosa? Per c'è chi ha detto che dovevamo fare un ponte provvisorio che costa quanto il nuovo ponte, non ha nessun senso. L'altro tipo di ponte bisogna chiamare il genio civile e sappiamo che i tempi sono lunghissimi, non sono cose semplicissime, non è scontato che arrivi però garantisco un po' di pazienza. Quando si fanno delle opere i disservizi ci sono però come sappiamo i disservizi passano poi le opere rimangono per sempre quindi questa è la strada che stiamo adottando.